Hanno protestato per giorni, affiancati dai rappresentanti sindacali, i lavoratori del centro sportivo Lenaia di Di Pescara e ora, dopo otto mesi di stop, la storica struttura potrà riaprire, probabilmente entro metà luglio. La Regione, per volontà dell'assessore regionale allo sport Guido Liris, in accordo con il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, ha deciso di affidare la gestione per un anno al raggruppamento di imprese composto da centro Italia Nuoto e sistemi integrati per lo sport attraverso lo scorrimento della graduatoria in essere in attesa che la Giunta valuti se proseguire sulla strada del project financing o accettare la proposta di gestione del comune di Pescara. Ieri c'è stata la riconsegna anticipata delle chiavi da parte del Lati, Naya di 2020 e alla Regione dopo la gestione di un anno avviata nel 2019. Contestualmente, si è deciso di assegnare in via urgente la gestione per un anno al soggetto idoneo e successivo nella graduatoria. Si tratta di due società che già gestiscono le piscine di Avezzano e Celano in Abruzzo, oltre a impianti anche nel Lazio.